Quali sono le tecnologie indossabili e utilizzabili nel mondo del lavoro? Anche il mondo del lavoro cambia e le tecnologie indossabili entrano a far parte di questo mondo. Le tecnologie possono essere molto utili per migliorare la qualità della vita e soprattutto migliorare anche la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Un lavoratore che indossa una tuta, occhiali intelligenti, caschetto, guanti intelligenti e si immerge in un ambiente ostile lo fa perché questo tipo di strumenti di fatto lo aiutano a interagire con un centro di controllo e una regia posta all'esterno con la quale si scambiano dati per migliorare la sua azione, per esempio riparare un guasto. Stesso di caso per esempio per gli occhiali che possono essere intelligenti ovviamente, che possono essere utilizzati per simulare la situazione di un attore che recita immaginando di essere in un teatro affollato di gente oppure di un pilota che impara a guidare in aereo o di un medico che impara a operare su un paziente virtuale. Queste tecnologie sono molto importanti e sicuramente faranno in modo che nei prossimi anni l'intero mondo del lavoro ne verrà rivoluzionato, sempre ripeto, per il bene di chi le usa.